che cercavo la l'inquadratura perfetta che mai la troverò e mi sono accorta che erano già le 14 e 30 e quindi è il momento della nostra diretta e la ornella c'è la debora e i suoi ragazzi ci sono l'antonella c'è non riesco a salutarvi perché voi sapete che nelle dirette delle chiacchiere mi guardo anch'io dal cellulare nella diretta ciao ragazzi ciao a tutti ciao fatina nelle dirette così dove cuciamo dove tagliamo oggi no preferisco avere un'inquadratura non specchiata perché se no capisco che non capite più niente perché è ben difficile vedere che io cuccio così non è non è possibile allora voi sapete che quando io faccio le dirette quando io preparo delle cose per voi spesso sono cose che servono ho fatto un pasticcio col computer aspettate un po ok adesso ci siamo sono cose che spesso servono a me ultimamente mi sono ritrovata a fare tanti progetti mescolati il progetto di cucito creativo che sapete mi impegna tantissimo soprattutto perché mentre faccio il progetto vado a lavorare sul file un sacco di trapuntatura ornella non dico niente l'hai già capito tutto te l'altro giorno gli dicevo ciao marisa l'altro giorno dicevo l'ornella allora ho finito le mie playlist io non so più come andare avanti a preparare daniela ciao a non riesco più ad andare avanti a trapuntare la tua coperta bella non non c'è dubbio ma ci sono dei ciao gianfranca ciao giuliana ma ci sono dei lavori che effettivamente sono un po più noiosi ma non è manu benvenuta cleide benvenuta metti una tarantella e poi faccio tutto così allora non sono forse sì per me sono più noiosi per un'altra fatina il noioso potrebbe essere erica buongiorno per esempio la erica potrebbe dirmi mamma quanti colori che usa quella lì quindi potrebbe essere necessaria una variazione per lei ecco il quilt vilma benvenuta il quilt bianco nero grigio mi sta dando del filo da torcere perché ciao liliana perché è niente non c'è niente da fare anche se metto la tarantella io sono un po più lenta mi distraggo più facilmente ci sono delle volte in cui dico adesso tra appunto un'ora e mezza di fila e può suonarmi il cellulare potete scrivermi io faccio io sarei a cavallo e lo so e non rispondo ciao je e non non ascolto i vostri audio con questi se voi mi scrivete se voi mi dite ti ho mandato una ricetta leggila ciao je ciao dovresti non essere presente in questa diretta se ce la fai a uscire e per curiosità non guardarla mai più poi chi se ne frega guardala cosa ti devo dire io ecco ecco con la con il trapunto della coperta della ornella se voi mi scrivete ti ho mandato la ricetta della torta al cioccolato io vado a leggere la ricetta della torta al cioccolato ciao stefania e va a finire che smetto di trapuntare vado pure a cucinare che non è vero non succederà mai ma ci sono proprio così delle delle cose che non sono tanto nelle mie corde quindi tutte queste cose mi hanno un po rallentato il lavoro avevo bisogno e adesso torniamo all'inizio della povera gente ma infatti che maleducata ma mandare via così dalle dirette allora ci sono state delle fatine una fatina venerdì non ci pensi però infatti va bene tutte qui va bene che mi hanno detto io so che cucire mi fa bene io so che mi fa passare qualche momento senza pensieri io so che è quello sei proprio una suocera io so che in questo in certi momenti è quello che ci vuole eppure eppure non riesco ciao uliana e e daniela buongiorno e è proprio quello che è successo a me in questi giorni nel senso che vi dicevo adesso sto esagerando di dire mi metto a cucinare perché non succederà mai cioè io mi metto a cucinare se sto per morire di fame se no effettivamente per me la cucina potrebbe anche non esistere in una casa ma voi non l'avete sentito ma ho proprio pensato cosa cosa potrei fare quale potrebbe essere quel progetto che mi riporta ad avere attenzione un'abitudine te sei la gloria sì secondo me te sei la gloria che dico io ciao e qual è il progetto che potrebbe farmi fare quel salto no farmi ritornare a cucire come quando cucivo patrizia benvenuta come quando cucivo veramente che tutte mi dicevano e mi dicevate ma come fai ma quante mani hai ma quanto cuci mi sono in puntata mi sembra da glielo ho detto alla ge perché l'ho ma forse da martedì ma non l'ho fatto tutte le sere però mi sembra martedì sera probabilmente sì ho detto questa sera comincio una cosa per voi e mi sono in puntata vabbè io ve lo dico già anzi comincio a farvi questa domanda secondo voi se io vi dico sono 42 blocchi ma senza occhiali ma dove vuoi andare Gemma benvenuta sono 42 blocchi vi dice qualcosa questo numero vi dice qualcosa che fra un po' non mi vedete più perché sono caduta se mi sposto così evito di stare tutta storta e sono in inquadratura vi dice qualcosa sono 42 blocchi prima premessa la prossima volta te le mando al posto della coperta 6x7 ok 6x7 42 sono coperta sì copertina copertina layer cake esatto ciao maria esatto i ragazzi hanno indovinato 6x7 42 layer cake io ne ho un po' qui vi faccio vedere poi quello che potete fare ma il punto fondamentale di questa diretta è stato che io non avendo voglia di cucire mi sono impuntata e ho cercato di ricreare un'abitudine quando avete presente il primo dell'anno no ah mi sono fatta i buoni propositi che durano fino alla befana e basta e basta perché non sono i buoni propositi non è la forza di volontà non è la testardaggine che per carità io ho cioè non mi manca niente ma è l'abitudine l'abitudine di dire bene tu sei stato un po' un po' sì marianna ciao l'abitudine che avevo un po' perso di dire bene io faccio la mia giornata tra appunto la coperta dell'ornella già tanto ah già tanto secondo me da dal primo dell'anno al 6 al 6 gennaio secondo me era questa la risposta allora la mia giornata è fatta di preparo i pacchi per le spedizioni rispondo alle fatine poi rispondo alle fatine perché nel frattempo ce n'è qualcun'altra che mi chiede delle cose io rispondo e rielaborate e mi richiedete delle altre cose poi in questo periodo sono arrivate parecchie cose che io non vi ho ancora fatto vedere perché ogni tanto arriva un pacco per me e quindi sistemo aggiungo gli oggetti sul file gli oggetti aggiungo gli articoli sul file ripeto di nuovo vado a trapuntare ho quelle quell'iniziativa ve la ricordate di quella diretta che non era partita che non c'era non c'era la connessione che il poromo continuava a chiamare e la diretta si bloccava ecco ho ancora quell'iniziativa lì da fare quindi andavo a fare tutte queste cose ma da martedì scorso quattro blocchi poi logicamente qualche giornata ho lavorato di più ma l'abitudine di dire bene io quattro blocchi li faccio che riesca a farli per esempio tra una fatina e l'altra oppure dopo che ho trapuntato oppure magari mi avanzava tempo al mattino mi dedico alle spedizioni mi avanzava tempo per e avevo preventivato che per la lezione del pomeriggio ero già abbastanza pronta quindi ficcavo dentro quei quattro blocchi sono facili sono veloci tutorial fotografico ma veramente una sciocchezza però mia quattro e tanta roba sì ma sono quattro piccolini però mi ha dato di nuovo quell'abitudine che avevo un po' perso perché ero dedicata solo a quelle cose programmate diciamo io ho sempre preparato dei progetti ma nello stesso tempo senza dirvi troppe cose preparavo magari corsi preparavo delle coperte più grandi da farvi vedere ma sì anche nel progetto del nostro martedì sono contenta perché era da tanto che non riuscivo più a preparare in una settimana una cosa carina piccolina che si può fare con le ear cake ma che si può anche ridurre adesso però dovete scrivermi gira gira perché è qui dietro eh gira gira togli togli il bargello tutte le signore che stanno seguendo e che non mi hanno ancora chiesto informazioni sul bargello io devo tagliare ancora un paio di kit forse forse tre quattro tirare fuori poi io posso posso accogliere altri signori che mi chiedono informazioni che vogliono i kit da settembre quindi abbiamo tempo quindi facciamo in tempo le cose con calma vogliamo vedere ricordatevi però che io vi avevo fatto una domanda qualche settimana fa a luglio di solito c'è il grande progetto che inizierà a dicembre di che cosa me lo scrivete poi giro me lo scrivete di che cosa intanto uffi vedere e più me lo dite più sto qui intanto vero che tutte voi avete messo mi piace a questo video lo condividerete nelle vostre storie Natale dal primo Teresa ciao dal primo al venti dal primo dicembre al ventiquattro dicembre cos'è che facciamo di solito allora io intanto ve lo dico già io il progetto ce l'ho già già condiviso non mi fate arrabbiare la maestra infatti già sono nervosa così eh allora io intanto il progetto ce l'ho già devo solo preparare un blocco anche quello sarà come abitudine avvento quindi se voi siete d'accordo io il calendario dell'avvento vi ricordate il sacchetto con tutti i pacchettini che noi apriamo di giorno in giorno ve lo propongo anche quest'anno poi vedete voi calendario di Natale allora ma vi rendete conto che stiamo già passando Criconti Cristina Cristiana benvenuta Gabriella benvenuta ma vi rendete conto che stiamo già parlando del Natale allora io vi giro no io vi giro io tolgo il bargello vi faccio vedere e vi do un sacco di alternative per ridurre ancora di più il lavoro che è veramente una sciocchezza davvero per ridurre ancora di più il lavoro e per no troppo per adesso a pensare al Natale ah però se io ti dicessi facciamo un lavoretto di Halloween sono sicura che tu saresti una delle prime ad accettare la mia proposta allora progetto vi dico mi sembra martedì sera che l'ho impostato stasera sarà finito logicamente il top perché la longarma ce l'ho impegnata da una coperta bianca nera e grigia e qui tra poco no non ha mai smesso Daniela qui tra poco non ha mai smesso di nevicarle di far freddo guardate che io adesso sono così ma solo perché mi sono dimenticata la felpa sopra allora giro no guardate adesso mi viene giù tutto addosso però poi dopo il poromo dice ma quelle carrucole che ti avevo fatto le usi no strappo tutto com'è allora intanto io avevo bisogno un trapuntino un insomma sì una coperta perché attenzione questa può diventare una coperta anche matrimoniale che ci rappresentasse cuore di stoffa facciamoli sti due cuori poi io avevo bisogno di una coperta nascita e quindi così mi so molto love ilaria benvenuta delizioso bellissimo non avevo dubbio grazie Uliana stupendo allora io ho bisogno di una coperta nascita praticamente è da la metà di novembre che io sto pensando a quale potrebbe essere la coperta nascita allora prima copertina nascita per eccellenza era la coperta conigli fatta con gli ombre vi ripeto è da novembre che io provo a disegnare la copertina nascita con gli ombre con altri tessuti allora ho capito un'altra cosa che spesso mi stupiva cioè quando voi mi dite devo fare una copertina nascita perché nasce una nipotina la figlia della mia vicina di casa la figlia della mia cugina preferita io vi presento un po' di coperte e mi dite ciao Lucia questa no questa no questa mi piace ma allora questa volta sì allora in svariati mesi io non ho mai trovato qualche cosa che che mi facesse dire oh questa è proprio la coperta che voglio fare perché logicamente sono più coinvolta e quindi insomma volevo che fosse una coperta bellissima volevo che fosse una coperta bellissima non lo so fatta col cuore sì ci sono i cuori bella colorata ci sono tutti i colori è molto delicata che suocere prima la manda via ma secondo me non c'è ma ci sarà ancora allora come vi dicevo è la coperta della rinascita la coperta del del fatto che effettivamente io mi sono ritagliata un bel po' di serate per andare avanti a cucire questi cuori il bordo che naturalmente voi non vedete perché non potevo attaccarlo qui no no l'ho attaccato là che così si vede poco e niente il bordo è fatto vabbè però aspettate ce l'ho qui allora ve lo posso far vedere anche da vicino naturalmente sarà corredata di tutorial fotografico però mi devo spostare perché sennò non so se è in inquadratura vedete che è molto facile molto veloce io sono arrivata diciamo a cucire i tre bordi perché poi alla fine li ho lavorati a catena diciamo per i tre quarti sono tutti finiti è per quello che vi dico entro stasera sarà fatta perché effettivamente mi manca davvero poco ho tutto sul tavolo sopra ho proprio solo preso i bordi ancora da finire per il resto è tutto sopra tutti i miei pezzettini già tagliati e tutto quanto dunque avete visto che comunque è facile è comunque un lavoro che può essere fatto anche dalle principianti sì può essere fatto dalle signore che hanno partecipato al corso base al corso avanzato stanno facendo il caledoscopio e qualche altra cosa che mi sono persa per la strada sì magari allora le signore che hanno già un po' più di esperienza lo fanno ballando la tarantella con la musica accesa tutorial fotografico schema carta modello ma veramente facilissimo e ho fatto anche il video mi sembra ma credo proprio di sì 99% ho fatto anche il video quindi è veramente facile veramente facile anche questo bordo ma come vi dicevo prima spesso io mi accorgo che vi preparo delle cose e poi adesso comincio a farvi vedere un layer cake mi prendete questo layer cake e mi dite ascolta unisco i quadrati addirittura qualcuna mi dice ma se io li unisco senza sash e senza quadretti viene abbastanza grande proprio perché capisco che avete bisogno di cucire di preparare una cosa di arrivare alla fine di un progetto perché avete quella sorta di blocco quindi ho esagerato ci sono troppi cuori questo bordo sì posso dirlo vi spaventa pensate che rimarrà un altro incompiuto perché poi alla fine non riuscite portarlo a termine ci penso io allora 6x7 42 sono 42 blocchi vi ripeto noi possiamo anche allargarla quindi voi mi scrivete e mi dici senti a me sta coperta mi piace tanto ricordatevi che io l'ho fatta così perché questa era la mia idea iniziale però volete fare dei sash facciamo un sash quindi i cuori invece di averli tutti appiccicati ce li abbiamo un po' più staccati le alternative per questo progetto sono svariate torniamo al fatto che non state cucendo che siete un po' rallentate che magari avete anche poco tempo magari cioè sono sicurissima non voglio prendervi in giro ma sono sicurissima che a casa vostra fa caldo un caldo che vi prende le forze quindi io capisco che cucite meno ci mancherebbe ancora e ambra benvenuta quindi sono 42 cuori e se noi ne facessimo solo 30 e dall'altra parte mettiamo o del colore di fondo o del colore preso da un layer cake oppure non facciamo tutto il quadrato ma facciamo magari una piccola scacchiera o faccia quello che volete voi sono pronta a farvi delle proposte come vi dicevo prima potete decidere di fare un sash oppure potete decidere di attaccarla come ho fatto io quindi con i quadrati tutti belli tutti belli vicini poi io vi ho proposto questo bordo particolare il bordo particolare è questo ma naturalmente voi potete anche prendere un pezzo del colore di fondo magari la butto lì facciamo i cuori solo ai quattro angoli per riprendere un po' il disegno interno e gli altri bordi chiaramente normali come quelli che facciamo con un pezzo unico o con due pezzi oppure con dei quadrati quindi non tanto lavoro come quello che ho fatto io ma però poi voi potete dirmi sì ma a me questo lavoro mi piace questo bordo particolare non l'ho mai fatto ricordatevi che questo bordo particolare è ripetuto tante 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 volte insomma un po' di volte può diventare anche una splendida coperta quindi con un file così mescolandolo voi avete un sacco di spunti ricordatevi sempre che io vi dico avete un sacco di spunti non è che voi con questo file dovete poi aggiustarvi perché io capisco che se avete voglia di fare una coperta così con tutte queste strisce verticali mi sembrano dei gioielli che scendono avete bisogno di me per sapere quante strisce fare quanto grandi fare questi quadretti perché magari volete modificarli un po' me lo dite ve la modifico voi lo sapete ci sono svariati modi di fare questa coperta però voi potete e soprattutto i bordi però voi potete anche dirmi sì però questo bordo mi piace è come vi dicevo prima l'occasione per impararlo e poi magari per fare una coperta con questo con questo blocco perché mi piace perché perché è curioso perché perché a me sembrano quelle catenelle di 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 come i lampadari di una volta quei lampadari di sissi con questi pendagli che non so se si chiamano così che vengono giù avete ditemi che avete presente oppure quelle collane che io mai metterò perché mi vedete ma con tutte questi queste una perla grossa e una piccola una grossa e una piccola vabbè lo so che che vivo di fantasia però chiara ciao però questo è quello che mi viene in mente lo sapete che è quello che mi viene in mente ve lo dico e allora sappiamo quanto sei disponibile a disegnare i nostri sogni però una fatina potrebbe anche sognare e dire eh però questo bordo è bello però questo bordo perché non farlo su un anche su una coperta che magari avete già iniziato si può eh ma allora per alleggerire un po' il lavoro bordo iniziato questa mattina questa sera è finita sì ma tu lavori tanto insomma diciamo che questa mattina non è che mi sono ammazzata dal lavoro però effettivamente ho un po' più di pratica è giusto quello perché lo faccio più spesso di voi solo per quello non è che sono più brava non è che sono più veloce perché ho la macchina che va più veloce è perché a furia di fare le cose ho trovato la giusta strategia per essere anche un po' più veloce però niente che si può raggiungere se ci sono arrivata io ci arrivano tutte allora perché non facciamo questo bordo solo sui lati verticali che anche d'impatto allunga la coperta e sugli orizzontali mettiamo chiaramente un pezzo intero oppure la scacchiera oppure magari una grechina fatta così che comunque fosse fatta così è ancora più difficile che quello che vi propongo io e che comunque vi disegno e vi calcolo anche per vedere l'impatto come viene poi non mi viene più in mente cosa possiamo fare sto pensando a cuore fatto col patchwork e cuore applicazione patchwork applicazione no però se voi siete amanti delle applicazioni prendete come esempio questa coperta quindi tutti questi cuori questi sono patchwork immaginatevi gli stondati e quindi quadrato cuore bianco applicato mi verrebbe ma sto zitta perché nel frattempo mi sono venute delle idee e ve le farò magari in una prossima diretta e no niente e maria grazia ciao e quindi prendere spunto da questo progetto per chiedermi delle modifiche questo si può fare si può fare io vedo qui quando quando vi vedo quando vi vedo arrivare punto dietro punto ciao mi immagino già per esempio come è successo alla erica no ho detto vabbè la erica povera cosa gli dico fai questa coperta che è pienissima di colori che è bellissima guarda questi accostamenti cioè non li vede povera quindi man mano che voi entrate nelle dirette io immagino no questo progetto potrebbe piacere tantissimo a questa signora a questa signora magari no Rossana ciao a quest'altra magari no però logicamente io vi do delle alternative allora posto che io vi assecondo sempre e quindi la maggior parte delle volte arriva per esempio la Giuliana e mi dice ma con i Kansas si può fare si può tutto certo che si può fare con i Kansas ha comunque un altro impatto per esempio io non farei una copertina nascita con i Kansas però perché no dovessi regalare una coperta alla Giuliana perché diventa nonna molto probabilmente apprezzerebbe di più la coperta fatta con i Kansas che questa con questi tessuti chiarissimi quindi logicamente è certo che si può fare io sto pensando alla coperta nascita perché sono così però effettivamente voi potete anche pensare a questo progetto da fare sul vostro divano tutto con i tessuti che stanno bene a ciao Daniela che stanno bene a casa vostra chiaramente quindi vi ho detto all'inizio che questa coperta può essere fatta con un layer cake e logicamente il colore di fondo abbinato mi viene in mente per esempio l'auliana che si è presa un layer cake di tessuti molto autunnali sai che amo i Kansas ma guarda lo sanno anche i muri quindi non potevo sbagliare ecco per esempio lei ha scelto come abbinamento dei grunge che non c'entrano niente con il chiaro con il bianco ma suono marrone bruciato il giallo ocra l'arancione tra parentesi se voi li modificate bene questi cuori e distribuite bene i colori potreste utilizzare anche più colori di fondo io vabbè voi non lo vedete perché da lontano non si vede ma è un però ce l'ho qui e quindi ve lo posso far vedere aspettate che ve lo metto in inquadratura è un bianco diciamo un panna con delle stelline rosa fucsia potevo anche prendere il bianco con le stelline fucsia il bianco con i pua il bianco intero intero unito e modificarlo così come se voi scegliete un layer cake come ha fatto la Olyana ciao Elena ciao Michela potete scegliere tranquillamente il colore di fondo parliamo dei Kansas ok parliamo dei Kansas vi ricordate la back to basic che è quei Kansas quella collezione Brunella ciao quella collezione con tono su tono disegnini piccoli 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 ecco voi potete prendere tutti questi i Kansas in generale un layer cake ma diventerai ancora nonna chi può dirlo boh e e si si chiamerà gioia sono emozionata e andare a riempire ogni cuore con il Kansas back to basic con o con anzi stavo dicendo o con lo stesso colore oppure con colore tipo verde esterno e l'arancio interno oppure arancio tutto mescolato fuori e arancio chiaro interno da vedere da sistemare il computer da provare e sperimentare però secondo me potrebbe venire una cosa carina stessa cosa Kansas e grungi come vi ripeto tutto sto mega discorso per dirvi che io mi sono portata qui un po' di layer cake ma devo dirvi un'altra cosa anche ma non ho preso layer cake Kansas perché mi sono in puntata poi ci faccio mezza diretta ma io sono contraddittoria quindi vi ho fatto vedere già questa collezione batik allora io sto parlando di layer cake ma se preferite ecco perché la G è sempre in diretta eh sì perché non si muove praticamente più povera anche lei meno male che non fa caldo però per esempio perché non andare a prendere i batik in pezza quindi logicamente si può fare con i layer cake si può fare con i batik normali l'altra variazione in base al materiale non sto parlando di colori ma in base al materiale è ve lo farò vedere perché ho preparato tutti i disegni quindi vi faccio vedere davvero a schermata ma provate a immaginare il bordo adesso sto pensando ma io ormai li ho fatti tutti e quattro quasi alla fine quindi va bene così che bello con i batik sì sì che bello con i batik te chiara no ne hai già da fare zitta e ma non è vero se lo vuoi te lo do ma ricordatevi provate a immaginare questo al contrario quindi tutto colorato qui e le gocce dei lampadari della anche della rosalowara potrebbe essere chiaramente lo sapete che io dovevo nascere in un'altra epoca con tutti quei vestiti lunghissimi e con questi tutti bianchi quindi al contrario ecco la mia idea era proprio di fare i batik proprio di fare questo bordo proprio al contrario l'ho fatto in disegno mi piace molto ma volevo darvi la possibilità di usare un solo layer cake perché perché scegliendo di fare il bordo così ma bianco centrale bianco comunque lo sapete colore di fondo centrale e esterno tutto tutto colorato io vi ho calcolato un jelly roll quindi layer cake e jelly roll naturalmente il layer cake del layer cake avanzerete qualcosa del jelly roll avanzerete qualcosa ci penso io vi faccio usare tutto naturalmente se avete la se accettate una proposta di un bordo più colorato di un bordo più pieno di colore dobbiamo vedere di avere la stessa collezione o una simile si può anche fare lo avete già guardato questo per ultimo allora vi ho detto che io ero piuttosto sulla coperta bambino diciamo una coperta asilo una coperta molto molto delicata che può essere fatta con questi colori tutti questi layer cake e altri io ve li posso mettere a schermata se volete avere un'idea ricordatevi sempre però mamma mia quanto parlo ricordatevi sempre però che spesso la voglia di lavorare vi viene anche per la curiosità di vedere il lavoro finito il progetto finito avendo ma che collezione ho usato questi sono miei scarti che avevo nei cassetti ho ancora qualche pezzo ma questa non è più disponibile nel senso che posso fare un kit uno solo avere già l'idea del lavoro finito vi calma la curiosità e anche per questo il lavoro e quindi andare a cucire dei blocchi è un po' più rallentato perché sapete già il risultato finito come effettivamente il fare due coperte uguali ci sono delle signore che sono capacissime e velocissime anche di lavorare su doppioni ma effettivamente la spinta che ci dà un progetto nuovo è tutta completamente diversa dal rifare un progetto già fatto già visto già passato sotto i nostri occhi è un po' quello che ho notato io nel corso caleidoscopio quello fatto utilizzando solo due colori la curiosità di tagliare un blocco e vedere una volta cucito che effetto faceva mi ha spinto a fare un blocco poi un altro poi dicevo proprio ancora uno ancora uno quindi effettivamente fate attenzione anche a non voler troppo vedere il risultato finale il risultato finale è vero che ci sono dei momenti in cui è necessario perché sarebbe troppo azzardato magari un abbinamento quindi logicamente non siamo abituate il nostro occhio vuole vedere il risultato vuole vedere che cosa che cosa combiniamo ma io qualche volta vorrei convincervi a ciao Daniela a basarvi sulla curiosità ad affidarci alla curiosità intanto però se volete io questo ve lo faccio la collezione successiva è questa bella anche lei colorata anche lei ma molto moderna guardate c'è dentro questo nero fantastico ho sempre detto che facevo qualcosa e poi alla fine come sempre io tutte le collezioni non riesco ad utilizzarle per esempio io di questa collezione ho fatto il progetto jelly roll e il progetto layer cake di giugno e sicuramente non riuscirò ad utilizzarlo questo è l'ultimo ed è quello coming up roses in una delle ultime dirette delle chiacchiere ho fatto vedere tutto il pacco magico questa collezione si presta ad un quilt fatto a sfumature di colori perché ci sono poche sfumature ma sono nette ma hanno delle stoffe che creano collegamento e quindi bellissima un altro che potrebbe avere una patchwork di Anna ciao potrebbe avere un impatto molto simile a questo è la sariditti vi ricordate che mi avevate chiesto il layer cake c'è ancora è la collezione arcobaleno quella più forte la spice effettivamente provate a immaginare ogni cuore marisa ciao ogni cuore fatto così bello 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 un'altra delicata come questa carina una coperta nascita chiaramente sì ci sono dei rosa Daniela l'altra collezione guardate abbiamo fatto proprio la combo perché perché sono collezioni allegre vivace che si prestano a questi tipi di lavoro molto molto leggeri molto sereni diciamo ma provate a immaginare questa qua utilizzando il contorno bianco nero e grigio e l'interno o di un colore che può essere il bianco o può essere il nero o può essere boh la butto lì un rosso oppure bianco nero e grigio all'esterno e tutti i colori magari anche abbinati così e tutti i colori dell'arcobaleno all'interno perché io faccio le cose no? poi quando ve le propongo dico cavoli questo sì che volevo farlo io e sono contenta e sono curiosa di sapere quale sarà la fatina che dice sai ho visto la diretta quell'idea è proprio bella mettimi via un layer cake naturalmente vi dicevo layer cake è quella quella forma di pretagliato che si utilizza per tanti blocchi questo per esempio è uno di quelli ci fate anche il bordo avete bisogno del colore di fondo con l'acquisto di un layer cake voi entrate a far parte del gruppo dove io tutti i mesi vi mando un progetto che poi a turno le signore fanno e dopo che vi mando il progetto arrivano le domande mi metti via un layer cake ma quello lì c'è ancora vi ricordo di tutti quelli che vi ho fatto vedere questo è l'ultimo quello con la saridittis rainbow spice questo è l'ultimo coming up roses ed è l'ultimo anche questo dei batik quindi scrivetemi subito degli altri quello della me and my sister quindi delle sorelle effettivamente sono talmente simili che sono un po' più tranquilla perché uno dei tre è l'ultimo e non mi ricordo quale intanto io vi dico tanto sono tranquilla perché sono simili quindi effettivamente quando è capitato che mi chiedesse quando mi chiedete delle quando mi chiedete dei pretagliati che non ci sono più con questo tipo di collezione io riesco comunque a farvi vedere delle valide alternative ed effettivamente insomma raramente uno si impunta su una particolare collezione ma è lo stile che vi interessa lo stile che vi colpisce che vi incuriosisce quindi mi avete già detto che avete condiviso la diretta vado avanti a prepararvi i video tutorial per i blocchi vi preparo il file vi preparo tutto quello che c'è voi mi scrivete io vi rispondo sapete che se non arrivo subito arrivo fra un po' credo che manchi qualche cosa di molto fondamentale a questa diretta ma non mi ricordo che cosa dovevo dirvi ricordatevi che ci sono ancora due collezioni che voi non avete visto e diciamo che non non vi ho fatto vedere queste collezioni perché non sono prettamente indicate per questo quilt quindi comunque non Lorenza ciao comunque non ve le avrei proposte per questo quilt però voi sapete che presto ci saranno delle dirette dove andremo a aprire il pacco magico basta parlare perché mi sono strozzata e non posso più e quindi beh no però ho l'acqua non mi ricordavo più di avere l'acqua Silvana ciao vi saluto facciamo così facciamo un patto entro sera io vi metto la foto della coperta finita buongiorno Lara buongiorno a tutti adesso mi chiede stai bene Lara sì mi manca un po' l'aria però sto bene parlo troppo come sempre ciao fatine chissà se riesco allora tanto no ma veramente non riesco più a parlare tanto comunque devo ho parlato per ho messo la mano davanti ho parlato per tre quarti d'ora cioè veramente e voi siete stati ad ascoltarmi è quello che mi preoccupa ancora di più allora tanto dovevo assolutamente staccare il telefono perché non arrivavo al tastino io vi faccio vedere un po' più da vicino vi faccio vedere il bordo che è quello che merita ma era troppo staccato era troppo lontano quando finirò quella coperta e le altre centomila che devo trapuntare andrà sull'allongarmo come la trapuntiamo? allora non ho ancora fatto dei calcoli precisi ma io andrei a pestare appiccicare schiacciare il cuore e fare venire in rilievo tutto il contorno naturalmente filo bianco non ho ancora pensato se sapete quello che mi piace tanto tanto proprio disegnare sul cuore oppure il contorno oppure stavo pensando magari anche a delle vabbè eh ok bacioni fatine ciao 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 Grazie a tutti.